Il Faust di Charles Gounod, il waltzer che fu rappresentato per la prima volta il 19 marzo del 1859. Un'opera che fu la più rappresentata nel teatro parigino, entrò nel repertorio internazionale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Un'opera che fu la più rappresentata nel teatro. 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 Un'opera che fu la più rappresentata nel teatro.